Lazio tra Conference e Darby, fa scattare il ritiro obbligatorio. Roma doppia missione nel giro di pochi giorni. Azzer Roma, la Lazio è pronta. Ieri la partenza per l'Olanda. Stasera alle 21 il fischio d'inizio del ritorno del match di Conference. La squadra si fermerà a dormire ad Alkmaar. Il rientro alla base è previsto per la mattinata di venerdì. Tutti in campo per la seduta di scarico. Poi Sarri concederà qualche ora di relax ai suoi. Sabato scatterà al ritiro per Darby con un allenamento tattico, l'unico, in vista della stracittadina del giorno dopo. La notte tutti i giocatori rimarranno in ritiro dentro Formello, il ritiro questa volta sarà obbligatorio. Tutti insieme concentrati per la Roma. Un match da non sbagliare che vale tantissimo. Virgola.